ucciso saddam le armi di distruzione di massa non furono mai trovate di rino cammilleri c'è di buono che c'è sempre qualcuno che prima o poi ci fa un film ricordate le famose armi di distruzione di massa di saddam dopo che quest'ultimo era stato praticamente solleticato a prendersi il kuwait e dopo che l'iraq si era svenato per dieci anni in una guerra contro l'iran la mossa gli scatenò contro la più grande coalizione militare della storia ai tempi di bush senior nel 1991 poi nel 2003 c'era da finire il lavoro e il segretario di stato powell si presentò all'onu con la storia delle armi di distruzione di massa e il lavoro fu finito però sul campo tali armi non vennero mai trovate e solo nel 2010 un film green zone del regista paul green grass con matt damon insinuò che forse non c'erano mai state ma ormai le cose erano fatte peccato che non siano mai finite da quelle parti senza la dittatura di saddam l'iraq è finito nel caos così come la libia senza la dittatura di gheddafi stesso servizio doveva essere fatto con la siria ma quelle cose si sono rivelate più complicate comunque un fatto poco noto riguarda l'inghilterra di tony blair nel 2003 alleato di ferro degli usa di bush junior in quell'anno una traduttrice inglese katharine gunn lavorava all'ente governativo di comunicazioni per i servizi segreti gchq government communication headquarters con sede a cheltenham la giovane donna intercettò un messaggio di tal frank coza dell'nsa national security agency americano in esso si raccomandava ovviamente in via top secret di far pressioni sui membri non permanenti del consiglio di sicurezza dell'onu perché autorizzassero l'intervento anglo americano in iraq il fatto era che il governo inglese aveva qualche difficoltà a far digerire la guerra sia al popolo che allo stesso apparato infatti il procuratore generale lord goldsmith aveva dato parere negativo senza mandato onu la gran bretagna non aveva alcun diritto di attaccare l'iraq goldsmith però viaggiò a washington e al ritorno aveva cambiato misteriosamente idea ora la traduttrice katharine gunn era sposata con un curdo così pensò bene di far pervenire quel che aveva scoperto alla redazione dell'observer quotidiano filli favorevole alla guerra da questa storia è stato tratto un film non ancora uscito in italia official secrets del regista gavin wood con kira knackley nei panni della gun e ralph fins in quelli dell'avvocato che l'assistette sì perché la gun fu scoperta e processata per tradimento ma poi al ridosso delle elezioni le accuse a suo carico vennero ritirate per non dare ulteriore pubblicità alla faccenda il film è tratto da un libro the spy who tried to stop a war di marcia e tom michelle l'unica variante è che la vera gun è bionda mentre nel film è mora intervistata sul perché avesse deciso di tradire il suo paese rivelando quel che sapeva alla stampa e rischiando oltre al carcere l'espulsione del marito disse che non aveva tradito il paese bensì i suoi governanti del momento e che quella guerra non era solo a saddam ma anche a 30 milioni di iracheni in effetti di questi ne morirono circa un milione pare più 4.600 inglesi e americani il film non risparmia nemmeno i particolari grotteschi che la vicenda a un certo punto assunse per esempio la stampa a filo governativa per sostenere che si trattava di un falso puntò i riflettori su certe parole del messaggio trafugato parole che gli americani scrivono in modo leggermente diverso dagli inglesi come recognize anziché recognize ebbene venne fuori che la redattrice dell'observer nel batterler computer aveva fatto ricorso meccanicamente al correttore automatico